E' ancora in corso lo spoglio, però il risultato ormai è chiaro, la vittoria è sfumata ed è sfumata per un terzo circa dei voti, qual è il primo pensiero? Il primo pensiero, giustamente forse abbiamo sbagliato qualcosa noi, ci stavamo domandando con alcuni dei miei collaboratori, loro giustamente mi facevano notare che c'è stata una campagna un pochettino mediatica, aggressiva nei miei confronti. Questo è un problema? Un problema secondo me non è un problema, visto che la Romania è un paese che appartiene all'Europa, però devo dire una cosa, che tante persone finché lavorano a casa e fanno le badante e sono romene vanno bene, finché alcune le fidanzate che sono romene vanno bene, finché lavorano nei campi e sono romene vanno bene, quando poi si devono integrare anche nel mondo politico non va più bene. Secondo me c'è un problema soltanto di arretratezza, basta. E adesso in Consiglio Comunale quale sarà la posizione? Quel progetto di cercare di pacificare tutte le anime resterà in piedi? Sicuramente noi come gruppo nostro di Rinasce Leni, Amiamo Leni e Impegno Concreto, insieme al PD faremo un gruppo unico.